ben trovati parliamo oggi del mondo del lavoro parliamo delle evoluzioni e anche delle grandi difficoltà che vive il nostro territorio siciliano ma anche italiano un mondo del lavoro che sta cambiando un mondo del lavoro che è anche influenzato da gli eventi come è stata la pandemia che ancora assilla la nostra società o eventi come quelli del conflitto europeo insomma un lavoro e la ricerca del lavoro o del metodo perfetto per trovare il lavoro perfetto noi parliamo con il titolare e broker di Remax Platinum Saverio Franceschini ben trovato grazie allora parliamo di questa opportunità di lavoro e parliamo soprattutto del lavoro che oggi diventa forse fondamentale perché lo è per la realizzazione di ognuno di noi per la realizzazione di famiglie per la realizzazione anche di quello che può essere la vita quotidiana di tutti noi. Beh Attilio oggi il lavoro è una delle parti della vita più importanti perché chiaramente ci occupa la gran parte del tempo le nostre giornate sono occupate per chi per fortuna ha il proprio lavoro la gran parte della giornata è occupata da questa attività purtroppo il problema della nostra terra della nostra Sicilia è trovare il posto di lavoro per questo diciamo sono molto orgoglioso della della mia azienda perché ci dà l'opportunità un territorio complicato di dare un'opportunità di lavoro sia a persone che vogliono avviare una nuova carriera e sia a chi già è nel campo nel mondo del lavoro e vuole magari migliorare la sua situazione attuale. Ecco parliamo della macchina Remax Platinum dell'azienda Remax Platinum hai parlato di opportunità di lavoro però si parte da un concetto secondo me molto importante cioè non mandare nessuno allo sbaraglio perché perché il mondo immobiliare è un mondo del lavoro abbastanza particolare dove c'è bisogno di tanto aggiornamento c'è bisogno di tanta professionalità e quindi la parolina magica legata alla formazione diventa il quid in più fondamentale fondamentale in un mercato come quello immobiliare complesso in continua evoluzione in continuo aggiornamento ci sono tante norme da implementare e quindi è fondamentale per le aziende moderne strutturarsi internamente con dei percorsi formativi tanto ci crediamo a questo che all'interno della nostra azienda abbiamo creato una vera e propria scuola di formazione mi ha dato pure un nome Platinum Marketing attraverso questa scuola di formazione all'interno di essa ci sono dei formatori a tutti gli effetti che abbiamo costruito insieme un percorso di avviamento alla professione dove tutti i nostri affiliati i nostri consulenti che si avviano per la prima volta a questo mondo seguono un percorso step by step di avvio sia pratico quindi proprio sul campo con un percorso di tutoring e sia teorico quindi i nostri affiliati seguono un avviamento teorico e pratico molto importante è fondamentale per evitare di immettere nel mercato persone che possano creare disagio alla clientela e in più non scoraggiare queste nuove persone queste nuove leve che si avviano a questa professione in un mondo complicato e quindi senza le dovute competenze senza le dovute informazioni possono anche scoraggiarsi fin da subito e quindi abbandonare questa questa carriera quindi noi ci siamo strutturati in questi primi dieci anni investiamo tantissime risorse della nostra azienda proprio sulla formazione professionale ecco la figura dei manager le figure anche poi che si vanno a consolidare dei team e il concetto di collaborazione perché credo che il mondo del lavoro immobiliare in questo caso anche l'agente immobiliare ma remax a 360 gradi sia cambiato e anche voi avete dato anche una spinta nuova rispetto a quelle che erano i canoni del 1973 addirittura totalmente diverso anche negli ultimi io ho iniziato la mia carriera immobiliare nel 2006 e in questi ultimi 17 16 anni è cambiato totalmente il mercato immobiliare sia a livello tecnico nel senso che fino a qualche anno fa fino a decenni fa non c'era tantissima attenzione nel nell'aspetto urbanistico fiscale legale catastale dell'immobile oggi invece sia le banche che erogano mutui sia i notari e anche la clientela che è molto informata abbiamo a che fare con dei clienti professionisti possiamo definirli così oggi c'è particolare attenzione anche all'aspetto tecnico quindi i nostri consulenti devono essere preparati anche da questo punto di vista oltre questo poi chiaramente c'è l'aspetto commerciale chiaramente sono degli agenti quindi vengono supportati anche da questo punto di vista e non ultimo l'implemento in questi ultimi anni quello che abbiamo visto implementare nel mondo del lavoro in generale ma poi anche come agente immobiliare sicuramente la tecnologia e l'intelligenza artificiale che anche nel mercato immobiliare è entrata già era entrato in maniera poderosa negli anni passati negli ultimi due anni per via della pandemia questo si è ulteriormente implementato chiudiamo con l'opportunità come abbiamo cominciato ecco chi vuole abbracciare il mondo Remax Platinum ma non solo il ragazzo la ragazza che vuole avvicinarsi al mondo immobiliare ma anche il professionista che potrebbe anche trovare una nuova valvola di motivazionale rispetto all'atrofia del suo stesso lavoro che ha praticato per 30 anni ecco cosa bisogna fare per contattare Platinum e il percorso grazie a tiro mi dai l'opportunità di spiegare bene il sistema Remax perché in realtà Remax nasce nel 1973 quindi l'anno prossimo compie 50 anni è innovativa ma effettivamente esiste già da 50 per contattare nel sistema Remax e nasce negli Stati Uniti soprattutto per gli agenti immobiliari quindi già chi è esperto, chi ha già esperienza nel campo immobiliare tant'è che in tutto il mondo la rete, il franchising di Remax attrae i migliori top producer, i migliori agenti immobiliari nel mondo quindi in realtà la nostra offerta lavorativa non è rivolta solo ai neofiti anche e soprattutto a chi ha già la propria agenzia chi ha già esperienza nel campo immobiliare e grazie al nostro supporto il nostro i nostri servizi possiamo facilitare velocizzare l'impegno appunto che negli anni sta diventando sempre più importante di un agente immobiliare tant'è che all'interno della nostra azienda l'agente immobiliare può delegare quelle parti del lavoro fondamentali come quelle che ho prima esposto sull'aspetto urbanistico, legale, fiscale e può concentrarsi a servire i propri clienti, a ottenere la fiducia dei propri clienti e dare il massimo per i propri clienti quindi con il nostro sistema si riesce a semplificare e a rendere più sereno e fluido il lavoro dell'agente immobiliare di conseguenza il servizio ai clienti è molto più di qualità grazie Severio Francesco grazie grazie al broker titolare di Remax Platinum a voi vi ricordiamo che per l'opportunità di lavoro ma per contattare Remax Platinum basta visitare anche remax.it slash platinum oppure telefonare allo 095 741 0271